Ciao a tutti, in amore conta l'istinto? Allora dobbiamo tenere presente un fatto fondamentale. Che cos'è l'istinto? Ecco, dobbiamo distinguere questo. Perché l'istinto, se è la spontanea attrazione, conta da un punto di vista fisico. Perché l'istinto da un punto di vista fisico è importante. Come dire, l'odore della pelle. Ci sono degli ancoraggi emozionali che si creano molto importanti a livello proprio istintivo, che dipendono dalle esperienze vissute. Quindi da questo punto di vista conta, è importante. Se intendiamo invece l'istinto come approvvigionamento emotivo, quindi come sfera emotiva, sicuramente conta perché conta se è allineata la parte logica. Allora è importante. Diciamo che dobbiamo dare spazio all'istinto. Se intendiamo istinto come unione di parte emotiva e di parte logica e di parte fisiologica, allora se siamo uniti, se siamo integrati, è fondamentale. Perché agiamo e andiamo direttamente nel verso giusto. Quindi, come dire, una tigre che insegue una zebra, non è che si fa domande, ma farò bene, farò male, povera zebra, se l'ammazzo come faccio? Oppure se non la prendo, non porterò da mangiare ai miei tigrotti. No, una tigre va e colpisce. Quindi è istinto. È tutto un meccanismo che si mette in moto. Allora, se siamo allineati, l'istinto è fondamentale, perché ci permette di fare bene le cose al primo colpo. Se invece siamo disallineati, che abbiamo una parte emotiva che vuole magari delle emozioni negative, una parte logica che ne vuole altre, magari la parte emotiva vuole il tradimento, la parte logica invece cerca le persone nei secoli fedeli, come l'arma dei carabinieri, allora entriamo in collisione. Ecco, quindi possiamo dire che una risposta univoca non c'è, cioè l'istinto è fondamentale, anzi è la nostra parte vincente, ma dobbiamo essere integrati. Quindi dobbiamo avere unito la sfera logica. Questo è un lavoro che dobbiamo fare, altrimenti se non siamo integrati, come dire, è meglio allora ragionare per logica e trovare quella persona. Poi però dobbiamo fargli la piacere anche alla parte emotiva fondamentalmente, anche perché se no si creano dei conflitti. Quindi, come tutte le cose, parte tutto da noi stessi. E quindi dobbiamo, come dire, cercare di integrarci. Questo è il fatto. La nostra realtà esteriore è semplicemente una proiezione della realtà interiore. Questo è un fatto fondamentale che vale sempre e che dobbiamo prendere in considerazione. Bene, per questo video è tutto. Lascia i commenti qua sotto, iscriviti al canale, metti un like. Ciao!